Passerei adesso alla seconda relazione di Massimiliano Spano dal titolo Matematica e teologia in Florenschi, analisi di una complessità crescente. Buonasera, intanto metto a fuoco il tema e quindi anche restringo perché il tema riguarda i rapporti tra teologia e matematica in Florenschi ed è condotto a partire dagli scritti in cui Florenschi si sofferma specificamente su questioni matematiche. Annuncio subito la tesi, cioè che la matematica in Florenschi è matematica, essa cioè non rifugge dal rigore che la contraddistingue è dalla complessità che caratterizza, spesso astratta, che caratterizza i suoi concetti. Alcune questioni che tratterò quindi faranno necessariamente riferimento alla matematica che tuttavia per tramite di Florenschi assume un sapore inconsueto, è una profondità in qualche maniera inedita, almeno per un matematico o un lettore occidentale, soprattutto in quell'occidente a cavallo tra 800 e 900, profondamente immerso nel suo entusiasmo è rigore scientifico. Non si può non tenere conto comunque che per la matematica e per la scienza in generale, prima ancora che per la teologia, l'800 e il 900 rappresentano due secoli segnati da profonde innovazioni, talvolta da fratture rispetto alle sistemazioni passate. Basterebbe pensare alla crisi della meccanica classica e quindi alla teoria della relatività, alla meccanica quantistica. Per la matematica si potrebbe pensare alla teoria degli insiemi, allo sviluppo delle analisi, alle geometrie non euclidee. Se si pensa a tutto questo, si comprende anche quanto profondi siano stati i cambiamenti che hanno caratterizzato gli anni in cui Florensky si formava e scriveva. Perché parlo di un sapore particolare? Perché quando Florensky usa termini matematici, come quelli di limite infinito, complessità, la densità del termine non ci permette di considerarlo semplicemente nel riferimento al solo contesto matematico. Intuiamo che già la mente di Florensky è rivolta altrove. Questa particolare apertura semantica gli viene sicuramente dal suo retroterra culturale russo e non secondariamente anche dalla sua storia personale. Ma sbaglieremo se pensassimo che queste aperture significano abbandonare il terreno della matematica. Sbaglieremo se pensassimo che tra la matematica e la teologia sussista un rapporto di continuità, un travaso naturale dell'una nell'altra che somiglia più ad una confusione di ambiti. Una matematica che è magia è una teologia che tradisce se stessa. Il motivo per non imboccare questa linea interpretativa è in realtà ancora più profondo perché in Florensky è la discontinuità che produce un senso e il rapporto andrà indagato e interpretato attraverso altri schemi. A me sembra che vada letto come tensione al limite, all'intorno di un punto, di un limite come punto di confine. La matematica in Florensky è quindi innanzitutto matematica. Diciamo subito che i due concetti che costituiscono l'ambito più carico di confronto tra la matematica e la teologia sono quelli di discontinuità e di forma. che Florensky indaga a partire dai concetti di funzione discontinua, numero ordinale e cardinalità transfinita. Chiaramente c'è anche una questione di fondo più generale. E cioè in che senso possiamo immaginare questo rapporto e su quali basi lo pone Florensky. Anche in questo caso si farà riferimento a due concetti. Il primo è quello di progressione che corrisponde al concetto matematico di tendenza al limite nello sviluppo di una funzione. E quello di complessità. E questo lo desumo direttamente dalla definizione o dal concetto di numero complesso. Cioè lo intendo nel senso di compresenza strutturata di elementi che sono però tra loro irriducibili. In questo mio intervento farò riferimento a dei concetti matematici. Però voglio cercare di mantenere questi concetti all'interno di quel particolare sapore che acquistano nella ricerca di Florensky. E Florensky stesso che nello scritto i tipi di crescita lo scritto del 1906 descrive la difficoltà di concepire un rapporto tra matematica e teologia in quanto la matematica tratta di grandezze. La teologia studia quanto non si presta ad essere misurato e di conseguenza che non può essere elaborato matematicamente. Già Florensky si domandava quale nesso è possibile allora trovare tra queste due discipline che non sia un nesso fatto di semplici allusioni similitudini immagini a volte anche mode. Sebbene in Florensky tale rapporto sussista e sia anche molto forte esso non va letto innanzitutto nel senso che la matematica possa fornire un qualche teorema in grado di dimostrare direttamente un qualche pronunciamento teologico e neppure che la domanda debba imporsi in quale sia il rapporto tra Dio e la misura. Bisogna anche dire che la questione dei rapporti tra matematica e teologia giunge a Florensky già carica di una sua storia lunga e complessa e anche che nonostante questa apparente distanza la storia in realtà dei rapporti tra matematica e teologia è almeno antica quanto la stessa storia delle due discipline. Qui però Florensky fa un'osservazione è solo nella modernità che questo connubio trova una battuta d'arresto il motivo di questo arresto va indagato a partire forse dalla matematica stessa. Ogni qualvolta Florensky illustra o dimostra una teoria matematica sembra innanzitutto rivolgere le proprie attenzioni alla matematica stessa nel tentativo di coglierne l'essenza così come trapela dalla questione che sta esaminando e solo successivamente questa essenza che riesce a trovare individuare riesce anche ad esprimere matematicamente i suoi risvolti teologici. Vi è quindi un movimento che a partire dalla matematica è innanzitutto rivolto alla matematica stessa e solo successivamente può confrontarsi può rivolgersi fuori dal proprio ambito nel nostro caso la teologia ma non solo l'analisi quindi del rapporto tra matematica e teologia in Florensky deve preliminarmente passare attraverso un'attenzione profonda alla stessa matematica perché ciò che nella modernità si è smarrito per modernità dobbiamo riferirci al concetto che è stato dato nella prima relazione quella del professor Oppo ciò che nella modernità si è smarrito in questo rapporto è il concetto stesso di matematica a partire dal suo oggetto proprio che cos'è il numero e cosa rappresenta le impostazioni essenziali di questa risposta in realtà Florensky l'eredita l'eredita da un'altra rivisitazione del concetto di matematica elaborata dal suo maestro Bugaiev Florensky elegge come propri punti di riferimento principali in questa questione due personaggi il primo è il suo maestro reale e cioè il matematico Nicolai Bugaiev conosciuto quando Florensky intraprende gli studi di matematica e fisica a Mosca l'altro maestro non reale ma di elezione è Georg Kantor di cui tra l'altro fu anche il primo divulgatore in terra russa Bugaiev ha influenzato molto Florensky come anche più volte ha ricordato il professor Tagliagambe nel senso almeno almeno a giudicare da quanto Florensky scrive nei propri scritti autobiografici anche nelle lettere il progetto di Bugaiev si doveva inserire quasi naturalmente con quanto già Florensky almeno in luce in giovane età personalmente coltivava però questa influenza prima ancora che dagli scritti di Florensky la si evince chiaramente dagli scritti di Bugaiev perché andandoli a legge si trovano moltissime intuizioni che Florensky svilupperà in seguito e quindi è importante per capire questo progetto di rivisitazione della matematica andare a capire che cosa insegnasse Bugaiev e ciò che Bugaiev insegnava è che la realtà ha un carattere di scontinuo Bugaiev fa riferimento alle ultime acquisizioni della scienza e della scienza a lui contemporanea e dice la tavola degli elementi in chimica la teoria atomica nella fisica della materia la costituzione cellulare dei corpi organici in biologia ma anche la combinazione specifica di suoni discreti nell'arte musicale e va su su via fino a comprendere i fenomeni della socialità umana e addirittura della stessa coscienza etica ora di fronte a questa constatazione la matematica continua invece a interpretare tutti i fenomeni della natura come se le loro variazioni avvenissero in maniera continua perché l'unico strumento concettualmente legittimo nello studio delle leggi di natura era considerato il concetto di funzione continua perché delle funzioni continue e questo è il pensiero di Bugaiev noi possiamo prevedere la tendenza allo sviluppo con precisione derivando integrando e quindi anche interpolando i dati mancanti perché siamo in possesso di uno schema costante che ci permette di prevedere uno sviluppo e soprattutto un controllo del dato questo non accade per le funzioni discontinue di cui tra l'altro non si possedeva fino all'opera di Bernard Riemann un metodo standardizzato per il calcolo dell'integrale e che venivano perciò letteralmente considerate patologiche c'è di più perché l'attenzione dei matematici si restringeva addirittura a un tipo particolare di funzione continua alla cosiddetta funzione liscia cioè regolare anzi addirittura alle funzioni cosiddette analitiche che sono un particolare tipo di funzioni continue però ancora più regolari polinominali infinitamente derivabili in ogni punto del loro dominio è sempre continua ora dietro questo atteggiamento dice stressamente Bugayev si cela in realtà l'espressione matematica dell'idea di un determinismo totale e questa è diretta espressione di un positivismo dominante negli ambienti matematici contro cui Bugayev era impegnato in prima persona in quegli anni quindi il programma matematico di Bugayev prevedeva lo studio sistematico delle funzioni discontinue ed anzi Bugayev divise in generale la matematica in due branche l'analisi cioè lo studio delle funzioni continue è quella che lui chiamerà aritmologia ovvero sia semplificando perché in realtà il programma è più vasto però in questo nostro schema lo studio delle funzioni discontinue Bugayev espose queste sue idee al primo congresso internazionale dei matematici che si svolse a Zurigo la famosa prolusione nel 1897 di fronte ad un pubblico ad un consesso che vedeva la partecipazione dei maggiori rappresentanti esponenti della matematica del tempo e cioè parliamo di Henri Poincaré Emilio Borrell Felix Klein Ernst Schroeder gli italiani Salvatore Pincherle Giuseppe Peano Cesare Burali Forti non è un semplice elenco tanto per ricordare dei nomi che forse per chi non studia matematica non sono così famosi ma perché sono quegli stessi personaggi che in occidente si stavano occupando esattamente delle stesse cose di cui si stava occupando Bugaiev però da un'altra parte dell'Europa cioè verso l'occidente e bisogna dire però che la divisione della matematica in queste due branche proposte da Bugaiev cioè ripetiamo l'analisi e la ritmologia non trovò una grande risposta o apprezzamento perché da una parte non rispondeva ad una reale necessità classificatoria che tra l'altro non era neanche avvertita dalla comunità internazionale questa esigenza perché perché non aveva probabilmente un reale aggiungo probabilmente però di fatto non aveva un reale fondamento della stessa prassi matematica di fatto la morte di Bugaiev a parte una iniziale ripresa da parte del suo discepolo Dmitri Yegorov però a parte questa breve ripresa dopo la morte di Bugaiev il programma aritmologico non troverà più un adeguato sviluppo intanto una precisazione perché si è detto questo è importante per la tesi iniziale si è detto che l'intento di Bugaiev era più quello di rinnovare la matematica in chiave antipositivista si può dire che esprimere una semplice necessità matematica ed è qui che si inserisce Florenschi quasi naturalmente anche se non si impegna direttamente in questo sviluppo anche in virtù delle sue scelte di vita perché ricordiamo che come finisce gli studi di matematica poi entra in seminario e si scrive in facoltà di teologia quindi c'è anche una storia personale di Florenschi che non lo vede impegnato in quello che poteva essere una possibilità di sviluppo però dobbiamo anche dire che l'aritmologia rimarrà un sottofondo costante senza la cui comprensione non riusciamo neanche a capire totalmente il pensiero di Florenschi un sottofondo matematico un sottofondo costante che comunque in maniera esplicita di volta in volta emerge fuori vorrei però tornare un attimo al problema della continuità perché dobbiamo esaminarlo nei rapporti con la teologia perché vorrei mostrare come anche solo per accenno però in che modo la questione della continuità o della discontinuità riguardi direttamente la teologia e qui faccio un'affermazione un'altra tesi forte ma ne sono sicuro la teologia cristiana qui per prudenza dico occidentale perché la conosco ho studiato anch'io teologia però azzardo la teologia cristiana è costitutivamente discontinua basterebbe pensare al solo concetto di trascendenza essa significa in fondo affermare l'esistenza di piani irriducibili di realtà però sbaglieremo se pensassimo che la trascendenza o la discontinuità abbia a che fare solo con questa diciamo distinzione fondamentale tra piano divino e piano naturale sono concetti profondamente discontinui quelli di creatio ex nichilo quello di persona umana definita come individua substanzia lo stesso concetto di substanzia è discontinuo con tutto il suo carico teologico per non parlare di concetti di incarnazione di kenosis di kairos e così via si potrebbe continuare a lungo ma la discontinuità è alla base anche della possibilità stessa di marcare qualsiasi differenza c'è di affermare che non tutto è uguale che una cosa non vale l'altra la discontinuità mi sembra che vada al cuore stesso del Vangelo perché senza senza differenza scompare per esempio anche la logica e il senso del dono addirittura il riconoscimento della sofferenza propria o altrui come ciò che non ci dovrebbe essere ciò che interrompe un normale sviluppo ciò che genera poi tra l'altro la domanda religiosa fondamentale del perché del riconoscimento di una anomalia anomalia è termine che usa anche Florensky dell'interruzione per esempio della giustizia e così via è un accenno la teologia cioè non può rinunciare al concetto di discontinuità è un accenno perché mi interessa la matematica tutto ciò potrebbe sembrare ad essere benevoli un discorso che vale giusto per la teologia ma che fuori da quest'ambito le cose stiano diversamente ed infatti è qui che la questione diventa centrale anche anche per Florensky l'ideologia dominante del positivismo affermava che almeno in natura esiste un unico piano in cui le cose avvengono non per salti ma per continuità si pensi anche per esempio alla griglia matematica che Isaac Newton dovete approntare in cui la natura deve essere considerata semplice omogenea uniforme così come si evince no non si evince così come esplicitamente Newton dice nel nel suoi principi florensky come già Bugaie osserva però che il carattere discontinuo della realtà è già riconosciuto nelle punte più avanzate della ricerca scientifica a lui contemporanea non so se chiamarlo ottimismo però Florensky ha questa visione ottimistica che comunque le scienze già da sole si stanno accorgendo che le cose non sono così e anche lui fa il suo elenco non è un elenco esattamente come quello di Bugaie dove si potrebbero marcare le differenze però mi interessa vedere quali sono secondo lui le evidenze che dicono che già la scienza questo riconosce e cito dice anche lui molecole atomi ioni elettroni magnetoni corpuscoli eterei i quanti di energia le emissioni dello spettro le linee di forza dei campi elettrici e magnetici anche qui ne abbiamo parlato i cristalli e poi qui anche lui prosegue gli esseri vegetali animali e umani le cellule i nuclei i cromosomi eccetera eccetera ma è la matematica per Florensky che ci mostra la contraddizione intrinseca anche questa parola è importante perché è intrinseca di questa visione allora perché la matematica non semplicemente la fisica perché qui abbiamo elencato una serie di oggetti che sono propriamente studio della fisica si potrebbe rispondere perché la fisica parla con il linguaggio della matematica e già questa risposta sarebbe sufficiente ma in Florensky e questo è da sottolineare è già stato sottolineato tra matematica e fisica non c'è esattamente la stessa distinzione che si potrebbe porre nei termini di linguaggio teorico e osservazione empirica per Florensky la matematica non è scienza puramente deduttiva nasce da un rapporto vitale anche qui abbiamo citato una bella frase di Florensky che dice questo è un rapporto vitale intuitivo e strumentale strumentale nel senso di Florensky con la realtà ovvero sia essa procede al pari della fisica da una esperienza del mondo da cui fa astrazione ma a cui ritorna nel suo momento di significazione è la matematica che la scienza deputata allo studio delle variazioni siano esse continue o discontinue con i suoi potenti strumenti di analisi ci può mostrare come il paradigma della continuità sia ben lungi dall'essere rappresentativo nello studio delle variazioni sarà però Cantor e non Bugayev qui che lo guiderà in questa analisi qui faccio un esempio in cui si vede in qualche maniera quel concetto che riprenderò dopo ma che ho già annunciato di progressione però analizzando matematicamente il concetto di continuità Cantor arriva piuttosto a constatare l'esistenza di salti qualitativi tra le diverse entità numeriche perché ci sono virtualmente infiniti modi di concepire la continuità e che qualche modo può produrre un salto che genera una distanza infinita di capacità espressiva ad ognuno di questi salti corrisponde una densità numerica densità numerica in senso matematico ma lo possiamo leggere anche come continuità ad ognuno di questi salti corrisponde una densità numerica essenzialmente diversa Cantor chiama queste entità numeriche numeri trasfiniti e il primo di questi salti giusto il primo gradino quello che oppone i numeri naturali ai numeri reali cioè l'infinito o se vogliamo l'universo dell'infinità discreta e l'universo dell'infinità continua già il primo di questi salti nel mondo dei numeri reali vede la continuità tra numero 0 e numero 1 quindi tra i primi due elementi contenere più elementi di quanti numeri naturali io abbia a disposizione per contarli chiaramente chi conosce le teorie di Cantor ha capito di cosa mi sto riferendo per Florensky questo dimostra chiaramente che la matematica attesta come il concetto di continuità numerica o densità porta inevitabilmente a constatare l'esistenza di forme numeriche irriducibili che non possono essere messe in continuità una dopo l'altra ed è questo il concetto negativo di continuità quello che si sviluppa non all'interno delle singole forme ma tra le forme la discontinuità incommensurabile tra le forme non permette alla fine di generare una funzione continua totale una funzione dell'intera realtà per esempio com'è nella concezione positivista che in un'unica maniera possa racchiudere come proprio sviluppo interno tutte le densità di variazioni possibili in termini semistici questa impossibilità potrebbe anche essere espressa attraverso quello che costituisce il paradosso di canto il passaggio quindi la trama del mondo è costitutivamente discontinua il passaggio però per capire cosa siano queste forme numeriche per Floreschi dell'interpretazione matematica che Floreschi dà di questo passaggio questa questione ci porta direttamente a quella di cosa sia il numero perché il progetto di rivisitazione della matematica non poteva che passare innanzitutto dalla definizione del suo concetto cardine che è quello di numero bisogna anche dire che tra la fine dell'Ottocento inizio del Novecento i matematici in tutta Europa erano impegnati in questo sforzo che prenderà il nome di aritmetizzazione dell'analisi definire il numero è fondamentale perché il numero costituisce in qualche maniera lato fondativo della stessa matematica ossia ci rivela le coordinate essenziali di una concezione di fondo ed infatti nelle diverse concezioni di numero che si andranno ad elaborare e Florensky ritrova le visioni fondamentali della continuità e della discontinuità questa separazione di cui abbiamo parlato anche Bugaiev si era occupato a lungo della teoria del numero ma saranno le idee di Cantor che guideranno ancora una volta Florensky in questa operazione si potrebbe dire come Cantor era riuscito a dimostrare due cose la prima che la matematica poteva adeguatamente trattare del concetto di infinità attuale e la seconda che il concetto di numero poteva essere ricondotto a quello di insieme anche la modernità alla fine utilizzerà la nozione cantoriana inizialmente ingenua di insieme come base concettuale per definire il numero ma si lamenta Florensky non lo capirà sino in fondo cioè non hanno capito cosa veramente Cantor volesse fare volesse dire con questa operazione e in che cosa consiste quindi questa incomprensione questo lo dice nei numeri pitagorici uno scritto del 22 la modernità si è dimenticata che per Cantor è fondamentale non tanto l'aspetto quantitativo dell'insieme cioè la conta di quanti individui compongono un insieme ciò che Cantor chiama cardinalità ma l'ordine per cui e con cui questi individui stanno assieme ciò che Cantor chiama tipo d'ordine o numero ordinale in determinate condizioni l'elemento d'ordine sottolinea l'aspetto qualitativo la conta solo quello quantitativo allora la modernità fuorviata da quanto succede negli insiemi finiti in cui cardinalità e ordinalità coincidono però ricordiamoci sempre che i termini anche matematici in Floreschi hanno sempre questo riferimento ampio è come se dicesse a fuori di concentrarsi sul finito ha fatto questa confusione perché fa coincidere la qualità con la quantità ed in questo fatto si realizza il fraintendimento ma dice Floreschi che senza la differenza tra quantità e qualità o se vogliamo tra cardinalità e numero ordinale Cantor non avrebbe mai potuto affrontare la conta di un infinito attuale la caratterizzazione di diversi tipi di infinito attraverso una relazione d'ordine è stato si può dire passate l'espressione il colpo di genio di Cantor che in qualche maniera denota anche le sue straordinarie qualità di matematico perché non c'è possibilità di trattare l'infinito da un punto di vista semplicemente quantitativo come si fa a contarlo e se la trattazione matematica dell'infinità attuale non avesse colto delle differenze tra i tipi di infinito sarebbe alla fine risultato una teoria sostanzialmente inutile le differenze tra i tipi di infinito di medesima potenza risiedono tutte nel tipo d'ordine ovvero sia dice Florensky il numero dice innanzitutto qualità e solo dopo questa quantità da questa qualità istituita ma questa non è un'innovazione Cantor non ha fatto altro che riportare la matematica là dove tutto era iniziato è significativo che per Florensky per ritrovare il concetto di numero dopo la geometrizzazione compiuta di Euclide cioè per superare Euclide occorre tornare Pitagorici chiaramente attrezzati del bagaglio tecnico fornito da Cantor e della moderna analisi la modernità concepisce il numero come una semplice posizione di successione infatti la funzione di successione è costante una semplice posizione di successione in una serie uniforme ma dietro la concezione moderna del numero si nasconde in realtà la legge della continuità lineare per Florensky è invece chiaro che il numero rappresenta il modo con cui noi cogliamo l'unità nelle cose e come senza questa capacità non si potrebbe neppure contare il numero costituisce dunque una chiave di lettura delle unità e delle trame qualitative del mondo e poiché ogni differenza qualitativa è riconducibile ad una cardinalità il numero parla di qualità discrete ognuna con caratteristiche proprie con una bella immagine Florensky dice che quest'ordine il tipo d'ordine fornisce l'essenza è il ritmo interiore di ogni numero e dice la sua musica pitagorica e si potrebbe aggiungere che la matematica è ciò che fa risuonare questa musica che come dice anche il sottotitolo del nostro convegno è polifonica in questo si può cogliere la visione matematica del mondo di di Florensky allora cosa dice questa visione matematica del mondo alla teologia abbiamo già detto come le linee essenziali di questo rapporto non vanno ricercate in singoli risultati o in singoli calcoli esse si armonizzano accompagnano chiariscano e potenziano la consapevolezza di un nuovo sguardo sul mondo che già si fa strada a giudizio di Florensky nelle punte più avanzate delle ricerche di tutte le discipline scientifiche e il centro di questo nuovo sguardo consiste nella constatazione si diceva della natura discreta della realtà per Florensky la matematica è scienza del discreto l'esistenza di salti qualitativi postula la possibilità di istituire dipendenze e differenze nell'attribuzione di valori e via via da ultimo della legittimità della possibilità del salto qualitativo estremo legittimità e non conseguenzialità legittimità del salto qualitativo estremo assoluto che introduce direttamente alla contemplazione dell'esistenza del mondo spirituale e di Dio la traduzione matematica di questa nuova concezione è rappresentata dal programma aritmologico di Bugaier che Florensky farà suo lo studio delle funzioni discontinue ecco una cosa che Bugaier non aveva fatto assieme alle nuove ricerche matematiche sull'infinito attuale di Cantor fanno definitivamente tramontare la legittimità scientifica della lex continuitatis e del positivismo con la sua idea di progresso che fa pandan con l'idea di continuità perché cosa si nasconde dietro il mito del progresso esso non è un'altra esplicitazione della legge di continuità esso pone tutti gli oggetti e tutti gli eventi del mondo su una linea dove ciò che viene dopo non solo è migliore ma assorbe è a nulla cioè rende false le forme che precedono il progresso così immaginato alla fine è destinato a ridurre le prospettive e quindi a perdere di complessità in Floreschi una forma non può mai travasarsi in un'altra perché tra di esse vige una incommensurabilità si diceva la realtà è veramente profondamente discontinua discontinuità però che non vuol dire dispersione solo che una certa unità può essere ricercata non nel versante della continuità o del progresso ma in quello della complessità l'idea geometrica che ha Floreschi della complessità non è tanto quella di una linea retta orientata dal meno al più somiglia piuttosto a quello sviluppo che a un dato momento procede a perpendicolo attraversa i punti della retta e da loro una profondità così come suggerito dalla rappresentazione dei numeri complessi e degli immaginari nel piano a cui Floreschi dedica un saggio importante se si pensa come vengono definiti i numeri complessi con una parte reale e una parte immaginaria la complessità è in grado di tenere insieme in una forma perché un numero è pur sempre ed è sempre una forma è in grado di tenere insieme in una forma elementi tra loro irriducibili ad ogni aumento della complessità ciò che nello stadio precedente rappresentava il limite non scompare come nel progresso ma riceve una nuova luce questo lo vediamo perché il finito è un caso limite dell'infinito la geometria euclidea è un caso limite del concetto di spazio geometrico le variazioni continue sono un caso di quelle discontinue e così via ogni forma possiede in sé una possibilità di sviluppo che è anche una promessa di sviluppo che però si vede come tendenza al limite lo si ricava dal teorema lui lo ricava dal teorema di Buarremont il teorema religioso lo chiama oggetto di studio dell'articolo i tipi di crescita qui posso dire il risultato cioè che bisogna attraversare queste forme farle sviluppare fino al limite perché ricevano dal loro stesso limite il limite matematica non significa non appartiene alla forma è un elemento che sta fuori alla forma quindi non lo si raggiunge mai ma neanche la tendenza al limite ha mai fine quindi è in questo sviluppo in questa tendenza che io posso in qualche maniera capire il senso di quella forma un po' tradotto è come se dicessimo la verità sta alla fine insomma però questo è importante anche epistemologicamente perché dice Florenschi che le posizioni del positivismo per esempio si vincono da dentro il positivismo stesso non semplicemente fuggendo ma portandolo al limite attraversandolo come si fa in un banco di nebbia dice Florenschi e questo a giudizio di Florenschi è quello che ha fatto canto non è uscito fuori dalla matematica ma l'ha portata al limite e così Florenschi non esce fuori mai dalla matematica la matematica è la matematica ma la porta al limite cos'è questa profondità che la progressione al limite riesce ad evidenziare abbiamo parlato delle funzioni lisce allora nella superficie liscia tutto sembra procedere secondo una variazione continua e ininterrotta di valori solo con un'analisi delle variazioni minime su intervalli di valori infinitesimali e arbitrariamente piccoli la progressione può mostrare salti e interruzioni spesso noi associamo l'idea di infinito a quella di vastità immisurabili ma in realtà l'analisi l'anese matematica del concetto di infinito si è più spesso misurata sul terreno delle minime differenze anche la continuità può presentarsi come infinitamente grande ma la discontinuità la si può cogliere a partire innanzitutto dall'infinitamente piccolo è dietro le pieghe del tendere al limite o delle minime differenze che si aprono più spesso gli abissi di profondità infinita la matematica e la teologia non rappresentano due vie distinte o al più complementari per giungere al mistero di Dio ma ammesso che ci sia comunque un rapporto la matematica non è in diretta continuità con la teologia non la precede né la teologia rappresenta il suo sbocco o il suo fine perché c'è infatti un altro concetto di complessità che rappresenta quasi la sintesi di questo discorso è che riguarda la stessa visione del sapere nessuna disciplina nessun approccio alla comprensione della realtà può dirsi autosufficiente il sapere di natura sua complesso perché intercollesso qualsiasi disciplina teologia e matematica comprese che pretendesse di viaggiare da sola è destinata a perdere di complessità e senza di essa cioè senza la complessità è destinata a non comprendere più la realtà e quindi a non riuscire più a cogliere in maniera autentica neppure quello che è l'oggetto e lo scopo proprio della sua ricerca vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti